Lo scandalo legato agli appalti per l'Expo di cui abbiamo parlato prima accende lo scontro politico a cominciare dalla reazione durissima dei 5 Stelle. Gli arresti per presunte irregolarità su alcuni appalti dell'Expo di Milano entrano nel dibattito politico del Movimento 5 Stelle. Gli arresti di Paris e di Greganti collegati a Expo hanno fatto venire allo scoperto ancora di più quanto è marcio, quanto è corrotto questo sistema. Le ricette però ci sono, noi abbiamo già depositato una legge per le ineleggibilità e le incompatibilità qui in Parlamento e ricordiamo che si sta finalmente discutendo dopo 20 anni il conflitto di interessi nella Commissione Affari Costituzionali. In tema di Made in Italy ed agroalimentare Beppe Grillo torna ad attaccare l'attuale sistema delle commissioni europee. E noi abbiamo un'economia che ci dice, cari signori, ci dice che un kiwi dalla Nuova Zelanda costa meno del kiwi che puoi coltivare qui. Abbiamo il testo alla genovese fatto con l'aglio cinese e il basilico tailandese e ci sembra normale che costi meno. Siamo in un sogno metafisico. Ma l'Europa vuol dire anche sistemi di difesa. Grazie.